Paolo Grimoldi, lei ha detto che il modello Desio è un modello da esportare per combattere il terrorismo, perché? Perché noi registriamo quelli che sono i fatti da parte delle forze dell'ordine di Desio, dove con telecamere all'interno dei centri culturali islamici, con l'intercettazione dei telefonini degli imam, riescono a tenere monitorato la situazione. Allora, Desio non deve essere però un caso estemporaneo, date evidentemente le buone qualità delle forze dell'ordine di quel territorio, deve essere in generale la linea che devono condurre le forze dell'ordine. Quindi mi sorprende che Desio vada encomiata, ma al tempo stesso il Ministero dorma e il Governo non fa misure legislative per far sì che queste cose che fanno ottimamente le forze dell'ordine di Desio siano fatte su tutto il territorio nazionale.